ben trovati amici alla rassegna stampa di pano tv oggi è venerdì 7 aprile 2023 e oggi ovviamente si festeggia anzi si celebra diciamo bene la passione del signore sono diverse le sacre rappresentazioni che si svolgono nel nostro territorio che ricordano appunto questo evento particolarmente drammatico ricordiamo la turba di cantiano ricordiamo quella rappresentazione che si svolge a serravalle di carda ce n'è un'altra anche a fabriano ce ne sono comunque diverse disseminate nel nostro territorio è un modo per rendere visibile e magari anche partecipare agli ultimi istanti di vita di Gesù e coglierne gli ultimi insegnamenti l'ultimo sacrificio quindi un momento di particolare raccoglimento per quanto riguarda la cristianità di tutto il mondo che oggi appunto celebra questo momento topico della vita di Gesù questo per quanto riguarda il santo per quanto riguarda appunto quello che celebra la chiesa oggi vediamo ora le previsioni del tempo cambiamo la grafica e vediamo come la situazione è in evoluzione inizialmente il tempo è stabile e solleggiato con un clima freddo al mattino poi nubie le nubie aumenteranno nel corso della giornata in modo particolare nel pomeriggio quando potrebbero verificarsi anche delle piovigine serali sulle pesarese i venti sulle coste espireranno con una tensione media da sud est mentre nell'interno da est sud est e le temperature rimangono piuttosto fredde si aggirano sui tre gradi per quanto riguarda le minime che mai sono passate sui 13 per la massima che non è insomma il top per un periodo in cui ancora i termosifoni possono restare accesi così come ieri ha decretato una ordinanza del sindaco di Fano Massimo Seri dopo che nei giorni prima l'aveva fatto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci apriamo i giornali a partire oggi dal resto delle Carlino vediamo l'apertura dedicata all'aspetto profano della Pasqua la Pasqua sì è una festa religiosa anzi dobbiamo dire la più importante festa religiosa dell'anno ma è anche un evento di particolare interesse per quanto riguarda il turismo perché è festa ci sono due giorni di festa e la voglia di uscire di casa di fare un viaggetto una gita magari anche fuori porta è veramente irresistibile e per questo che fa Fano Fano pubblica un calendario di tutti gli eventi che si svolgeranno durante l'anno e quest'anno l'ha fatto proprio nei giorni precedenti della Pasqua ieri il l'assessore al turismo Etienne Lucarelli di ritorno appena di ritorno da una da un viaggio fatto in Spagna nella città gemellata di Gandia dove ha svolto un ruolo promozionale della nostra offerta turistica ebbene ieri ha convocato una conferenza stampa all'aperto in piena piazza 20 settembre di fronte al rinnovato ufficio turismo un ufficio che non sarà più gestito dalla regione Marche come avveniva in passato l'ufficio della regione Marche lo IAT si è trasferito in viale Battisti mentre l'ufficio del comune che era in viale Battisti ora si è trasferito in piazza in piazza 20 settembre accanto all'ufficio informazioni del comune questo invece è un ufficio di informazioni turistiche che poi resterà aperto anche il venerdì il sabato la domenica che sono i giorni di maggiore affluenza turistica in precedenza quello della regione restava chiuso chiuso nei giorni festivi e quindi questo non era certo il massimo ebbene ieri l'assessore Etienne Lucarelli ha convocato questa conferenza stampa e ha presentato il programma degli eventi un calendario molto nutrito dove ci sono eventi di attrazione e eventi di accoglienza ebbene ma c'è anche un modo nuovo per far conoscere questo programma c'è il programma cartaceo e c'è anche un programma virtuale un calendario eventi che sarà distribuito su tutti gli alberghi le concessioni balneari gli uffici turistici insomma con larga diffusione e abbiamo anche un totem un totem digitale interattivo che elenca tutte le bellezze della città ma elenca anche giorno per giorno tutti gli eventi che si saranno proprio nel giorno in cui si digita lo schermo ebbene abbiamo un'app anche un'app che si può così introdurre nel proprio telefonino che darà tutte le informazioni e sono informazioni interessanti perché possono essere utilizzate anche dai fanesi i quali possono così essere messi a conoscenza di tutte le iniziative che si svolgono nel territorio e per quanto riguarda i turisti invece questa app permette di conoscere tutti i musei le cose belle da vedere nel giro di 100 metri dal punto in cui si trova il turista veramente la tecnica ha assunto una qualificazione inimmaginabile qualche tempo fa vediamo l'altro l'altra notizia di apertura del resto del carlino che condivide quella della presentazione del calendario degli eventi derby e incidenti un avvocato difende i tifosi iesini erano semplicemente in un bar ma non c'entrano c'è una versione contrastante rispetto a quella che era stata fornita nella rissa che è accaduta domenica scossa tra i tifosi senigallesi e i tifosi fanesi in cui c'erano anche alcuni alcuni iesini ma gli iesini erano pochissimi erano quattro addirittura qui si dice in questo articolo ebbene che cosa è accaduto è accaduto che i pochissimi tifosi iesini e alcuni tifosi di Fano uscendo dal bar leggiamo qui testualmente nell'articolo uscendo dal bar per raggiungere il vicino parcheggio sono stati avvicinati da circa 20 30 tifosi rispetto ai 375 che sono giunti da Senigallia la diversa consistenza numerica tra i tifosi senigallesi e quelli fanesi dimostra che non c'era un agguato premeditato nei confronti degli ospiti i quali invece i fanesi hanno subito un'aggressione con bottiglie vuote e altri oggetti i tre tifosi iesini sono riusciti poi grazie alla protezione delle forze dell'ordine di riuscire a prendere le loro auto e quindi a spostarsi da quel luogo che stava diventando veramente pericoloso e poi si parla della tragedia che è avvenuta ieri l'altro giorno nella zona industriale di bellocchi a Fano la tragedia di Giacomo Cesaretti il ragazzo di 26 anni che è stato schiacciato da un carro ponte in manovra che lo ha trascinato e stretto contro un muro ebbene oggi si effettuerà l'autopsia la farà il dottor Marco Palpacelli dell'istituto di medicina legale di Ancona che è stato chiamato a chiarire le cause del decesso per contribuire a far luce sulla dinamica dell'infortunio e sulle eventuali responsabilità e nel titolo si dice anche che sarà indagato il rappresentante legale dell'azienda ebbene c'è un'indagine che è inevitabile in questi casi si cercherà di stabilire se tutto è avvenuto per fatalità oppure ci sono delle responsabilità precise per dei mancati provvedimenti assunti a tutela dei lavoratori. Ci sono poi diverse dichiarazioni che vengono da più parti per cercare di indurre il governo, il legislatore, così a rendere ancora più dure le norme per tutelare i lavoratori nel corso dell'ambito delle aziende all'interno delle fabbriche. E poi una notizia che insomma farà anche scalpore, il Tar non blocca la variante di Gimarra, corsa contro il tempo per i lavori. Il Tar delle Marche, il Tribunale amministrativo ha deciso di non sospendere, di non dare la sospensiva al ricorso dei proprietari, di alcuni proprietari di terre che poi saranno espropriati per la realizzazione dell'ultimo tratto dell'interquartieri, tra cui c'è anche la diocesi di Fano, cioè diciamo meglio, c'è anche la parrocchia di Gimarra e l'istituto di sostentamento per il clero che hanno delle proprietà che vengono espropriate. Anche loro hanno fatto ricorso insieme ad alcuni proprietari, ma il Tar delle Marche non ha deciso per la sospensiva. Quindi l'amministrazione comunale può procedere, può andare avanti fino a dare i lavori entro il massimo del 30 giugno prossimo, che è stato l'ultimo termine di dilazione concesso per mettere a frutto quei 25 milioni che possiede il Comune di Fano per realizzare l'opera. Sappiamo questa quanto sia contestata per il suo impatto ambientale, per la sua inutilità, così affermano gli ambientalisti e altre opposizioni di cui abbiamo parlato tante e tante volte. Giriamo allora la pagina e vediamo come siamo nell'entroterra. Sarà il nome di Peppe Ottaviani, ricordiamo Peppe Ottaviani, l'ultracentenario che ancora percorreva le strade come un atleta giovincello. Ebbene sarà il nome di Peppe Ottaviani la nuova Ten Colle Marathon. Che cos'è la Ten Colle Marathon? È una gara che si pone accanto alla Colle Marathon, ovvero la classica maratona che si svolgerà il 7 maggio da Sant'Ippolito fino a Fano. Si tratta da Barchi, Sant'Ippolito e poi Fano. La Colle Marathon in programma appunto il 7 maggio, è una gara di 42 chilometri, non facile ma bellissima perché si svolge in un paesaggio collinare discendente verso la costa di grande suggestione. Ebbene vediamo che accanto a questa gara principale ce ne sarà un'altra che è un'altra che verrà fatta sui 10.000 metri, ovvero 10 chilometri da Barchi a Sant'Ippolito con partenza successiva a quella della corsa più lunga. E appunto per rendere onore a questo grande anziano, grande vecchio, che ha percorso ancora nella sua vecchiezza tante tante strade, ha fatto tante gare, viene intitolata questa nuova iniziativa. A Urbino si parla di studenti, di residenze e di affitti. Ebbene, studenti e città a confronto su questo tema. Prendete la residenza. È una nuova opportunità poco sfruttata dagli alunni, i quali possono prendere la residenza a Urbino, poi da avere anche tanti vantaggi. C'è stato un tavolo tra l'Ateneo, l'Erdis e il Comune, per così valutare gli spazi aggregativi. Il consegnere Laura Scalbi annuncia l'arrivo del ministro Anna Maria Bernini, che potrebbe arrivare a breve nella città ducale. Che cosa accadrebbe se gli studenti universitari potessero prendere la residenza a Urbino? Una pratica già possibile, ma poco conosciuta, che ieri è stata al centro della Commissione e dell'Ateneo. Insomma, si parla di questa cosa. E poi parliamo ancora di iniziative pasquali. Per quanto riguarda il turismo, parte l'arte, non solo chiese aperte, c'è anche l'antica sinagoga. Ebbene, a Urbino c'è una bella iniziativa, quella che si chiama Chiese aperte, in occasione di sabato, domenica e lunedì prossimo, appunto i tre giorni di Pasqua. Ebbene, una visita interessante per quanto riguarda l'arte, ma non solo l'arte, ma anche la fede, a cui quest'anno si aggiunge anche la sinagoga. Ebbene, è un'occasione non tanto frequente per cercare di vedere queste bellezze d'Urbino, non solo Palazzo Ducale, ma anche altre parti della città, che sono veramente molto molto belle. Ed ora parliamo delle iniziative pasquali, più propriamente pasquali. Dopo il Covid, alluvione, torna la turba a Cantiano, che la città si rialza con orgoglio. Lo stop dalla pandemia e i danni degli eventi di settembre non hanno piegato i volontari, che hanno voluto con determinazione riorganizzare questa iniziativa, che ormai fa parte della tradizione della città. A Cantiano, questa sera, va in scena uno degli eventi più attesi dell'anno, la turba. La sacra rappresentazione del Venerdì Santo, che racconta la passione del Cristo e si ripresenta sulla scena dopo tre anni di stop dalla pandemia. L'edizione 2023 di questa sera, inizierà alle ore 20, assumerà quindi un significato molto particolare, fino ad assurgere a data dei spartiacque, complice anche l'inizio della buona stagione e dei primi eventi alle strutture pubbliche danneggiate. Un po' lo spartiacque tra il dramma che è accaduto con l'alluvione e le prospettive per ritornare a vivere una vita normale. Quindi la fede, in questo senso, riesce sempre a dare una carica in più. E poi abbiamo anche il passio di Serravalle di Carda. Eccola qua, l'immagine emblematica di questa sacra rappresentazione. La passio per rivivere le ultime ore di vita di Gesù. L'intero paese riporterà in scena la grande rievocazione storico-religiosa che si fa da 41 edizioni. Questa sera alle ore 21, Serravalle di Carda è un paese un po' discosto nell'entroterra del nostro territorio, ma raggiungerlo è veramente una bella cosa perché insomma si fa una gita, partire anche qualche ora prima si riesce a vivere in un paesaggio veramente molto molto bello. Una notizia anche da Pesaro. Vediamo come l'apertura è dedicata alle case popolari. Eccola qua, l'articolo. Noi senza acqua calda e riscaldamento, ma l'Erap non fa nulla. È un altro episodio che si è verificato nelle case popolari dopo quello di Bellocchi a Fano, dopo quello del Poderino. Da una parte l'acqua era stata chiusa, dall'altra era stato chiuso il gas. Adesso c'è anche Pesaro che si unisce a queste situazioni, certo non ottimali. Alcuni condomini non pagano le bollette staccate alle utenze condominali e così ci rimettono le famiglie in regola. Gli enti si rimpallano il problema. C'è un intero condominio a Vismara dove abitano 23 famiglie che ha il contatore del gas staccato da mesi. La gente si riscalda con i fornelletti e le stufette, ma non tutti sono umorosi. Alcuni hanno pagato regolarmente la loro bolletta e non si capisce perché non devono avere il servizio. Il tutto dipende dal fatto che il contatore è centralizzato e se alcuni non pagano si chiude il contatore, ne soffrono tutti. Insomma, abbiamo già parlato di questa vicenda che certo non fa onore a chi gestisce le case popolari. E poi vediamo un caso che si è discusso in tribunale. Uno stalker da record, 100 telefonate al giorno. Pensate quanto bersagliava la sua vittima. E poi ancora pedinamenti, agguati. La vittima è una barista pesarese di 53 anni e il persecutore, un 44enne, non tollerava che lei avesse amici. La considerava una sua esclusiva proprietà ed è stato condannato a un anno e sei mesi. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico a partire dall'apertura sulla pagina di Fano. Eccola qua. È dedicata appunto alla tragedia che si è verificata a Bellocchi. Operaio morto schiacciato, oggi l'autopsia. La procura indaga il titolare della Polver. E poi qua abbiamo la stagione turistica che arriva a dicembre. L'app Visit Fano accompagna gli ospiti. Sulla Valmetauro abbiamo un articolo invece che riguarda sempre Fano. Pista ciclabile secco o no delle ferrovie dello Stato. Si valuta il ritorno del treno. E questa è la notizia importante, al pari di quella che annuncia come il Tar non ha dato la sospensiva alla variante di Cimarra. E in questo caso le ferrovie dello Stato hanno detto no alla pista ciclabile vicino ai binari della ferrovia Fano-Urbino. Così come aveva prospettato il comune di Fano. Ebbene si è parlato tanto se farla lontano, se farla vicino. A questo punto c'è arrivata la ferrovia e ha detto no, è tagliato la testa al toro. Ha detto no perché? Perché così come ha affermato l'amministratrice delegata di Rete Ferrovie Italiane Vera Fiorani in una interlocuzione diretta con l'amministrazione comunale ha detto che siccome è in ballo il ripristino della ferrovia fin quanto ancora non si è deciso concretamente se si riattiva questa tratta ferroviaria fino a quel momento non si può costruire nulla accanto ai binari perché poi la prospettiva di ripristinare la ferrovia e quindi i collegamenti ferroviari tra Fano-Urbino è in ballo e quindi può essere verificata e quindi niente pista ciclabile se la si vuol fare bisogna farla lontano dai binari e questa è un po' la decisione che è stata assunta. A Marotta in congedo dopo oltre 42 anni ogni giorno è stato diverso va in pensione il comandante della stazione dei carabinieri di Marotta si tratta del luogotenente Giuseppe Zocchi che era in servizio da 8 anni un carabiniere in realtà non va mai in pensione comunque onore, onore a te e al tuo operato sei una persona speciale questo è un po' l'addio, il saluto che è stato fatto dai colleghi appunto del luogotenente nel momento in cui va in pensione è un attestato di stima per un uomo che si è impegnato per così tenere sotto controllo l'ordine pubblico del territorio è riuscito in varie imprese e ha avuto, questo è importante, la stima dei suoi colleghi grazie dunque a Giuseppe Zocchi Febbre per il padel, questo sport che così interessa molti giovani si fa un terzo impianto a Pergola sarà costruito dove ce n'è già uno e l'altro invece è a San Lorenzo in campo la padelmania ha contagiato anche Pergola e San Lorenzo in tantissimi si stanno veramente avvicinando a questa disciplina dopo che negli ultimi due anni sono stati realizzati prima nella città di Bronzi e un campo e quindi nel centro laurentino delle bellissime strutture e quindi anche un divertimento in più per i giovani del luogo giriamo ancora la pagina e vediamo come ci sono notizie per quanto riguarda Senigallia ecco qua spiaggia di velluto piena di detriti e il biglietto da visita per Pasqua corsi della CIGIA arrivano i primi turisti e trovano questo insomma la situazione non è ideale un po' su tutto il territorio le mareggiate invernali hanno un po' scompassato l'arenile e l'amministrazione comunale le amministrazioni comunali tardano un pochino a riqualificare il territorio però insomma si cerca di abbreviare i tempi certo che la stagione non invita così a lunghe passeggiate è ancora freddo insomma ci sono dei problemi comunque a Senigallia ci sono detriti sparpagliati lungo l'arenile dal molo a Cernin per diversi chilometri alla vigilia del ponte di Pasqua la spiaggia di velluto fa i conti con gli effetti collaterali dell'alluvione che ancora si fanno sentire e preoccupano non poco gli operatori del turismo vediamo le pagine di Pesaro anche sul Corriere Adriatico e questa volta vediamo che l'apertura è dedicata al Parco del San Bartolo Parco mi chiamano tutti strade del mare da aprire ma la priorità è la falesia ebbene parla il nuovo presidente di questo ente di grande interesse ambientale si tratta di Silvano Leva neopresidente dell'ente parco di San Bartolo terapia intensiva occorre per la falesia fragile che si sgretola più le scogliere contro l'erosione costiera le vie del mare percorribile e aperte a tutti i punti di ristoro diffusi tra borghi siti e spiagge queste un po' sono le cose che vengono poste all'attenzione anzi che lui si è posto all'attenzione parlo del presidente per dare quell'assetto ideale per realizzare quel progetto di carattere ambientale e quindi valorizzare il parco del San Bartolo ancora sulla pagina di Pesaro parliamo sempre di ambiente oasi delle tartarughe da spostare vanno protette dalle mareggiate la fondazione cetacea vuole avvicinare lo spazio protetto di un centinaio di metri sulla spiaggia della Baia e poi una notizia di cronaca perseguitata dall'ex con 107 telefonate al giorno l'uomo condannato per stalking a un anno e sei mesi giriamo ancora la pagina e vediamo che a Soria c'è stato un incidente paura per un tredicenne investito in bici trauma cranico soccorso in eliambulanza un ragazzino travolto da un'auto in gravi condizioni anche un ciclista di 83 anni finito a terra in via Belgioioso con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandomi come sempre appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20-30 con il TG di Fano TV Occhio alla Notizia grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci